In una seduta notturna terminata alle 1.24 del 18 dicembre il Consiglio Provinciale ha approvato con 19 voti favorevoli e 15 contrari la manovra di bilancio provinciale per l'anno 2022. Questo a conclusione di un dibattito di diversi giorni nel quale i tre disegni di legge sul bilancio, la legge di stabilità, il bilancio di previsione e le disposizioni collegate alla legge di stabilità sono stati discussi in modo approfondito e in parte in maniera molto controversa. Il bilancio provinciale ammonta a 6 miliardi e mezzo di euro, un record come è stato ricordato da più parti. Questo era uno dei pochi punti che ha trovato l'accordo nel dibattito tra maggioranza e opposizione. Che nonostante l'anno di crisi la montare del bilancio sia così alto è dovuto, come ha riferito il presidente Compatcher nella sua relazione, anche alle trattative con il governo di Roma che ha riconosciuto vecchi debiti nei confronti della provincia. Nella sua relazione Arno Compatcher ha parlato anche della spaccatura della società e della perdita di fiducia nelle istituzioni oltre al fatto che la sostenibilità non può essere raggiunta solo con il progresso tecnico ma che richiede anche rinunce. Nel dibattito sui tre disegni di legge che si è riferito in primo luogo al discorso di Compatcher, molti consiglieri hanno criticato il fatto che nelle disposizioni collegate alla legge di stabilità si trovino negli articoli non inerenti al bilancio e che tutto il bilancio sia stato depositato troppo tardi per poterlo valutare in maniera approfondita. Diversi consiglieri, per esempio del Movimento 5 Stelle, di Enzian o di Fratelli d'Italia, hanno criticato l'aumento dell'IRAP. Il Team K ha criticato il fatto che le spese correnti tendano a prevalere e non lasciare margini per gli investimenti. Per i Freihaitlichen è mancato un controllo delle spese inefficienti, la cosiddetta spending review, e i verdi lamentano troppi investimenti in infrastrutture e troppo pochi in persone, soprattutto nell'impiego pubblico, nella sanità e nella cura. Per il Partito Democratico sono state trascurate le esigenze del capoluogo e della popolazione di lingua italiana. SVP, Lega e Forza Italia difendono invece la manovra che permette di aiutare le imprese e le famiglie anche in tempi di crisi. L'aumento dell'IRAP è necessario e dopo gli aiuti economici erogati, anche sostenibile dato che lo Stato vorrebbe abolire del tutto l'IRAP. Per le compensazioni alle regioni si terrà poi conto della montare del tasso. Da parte di tutti i gruppi sono stati poi discussi in maniera anche vivace temi come la pandemia, le limitazioni imposte e la campagna vaccinale. Nell'ambito del dibattito sul bilancio sono stati discussi anche 32 ordini del giorno riguardanti i disegni di legge. Alcuni sono stati anche approvati così, per esempio, come quello dei Freihaitlichen sulla trasparenza dei dati sulle infezioni. Quello del Team K sull'introduzione delle lezioni di etica. Quello di Fratelli d'Italia per un servizio sanitario di continuità durante la stagione turistica. Quello dei Verdi per la riqualificazione di un'area ferroviaria olimpica. Quello di Südtiroler Freihait per reclutare personale qualificato di lingua tedesca. E quello del SVP per aumentare i redditi del personale infermieristico assistenziale. Mentre i singoli articoli della legge di stabilità e del bilancio di previsione sono stati quasi sempre approvati senza interventi, gli articoli del disegno di legge sulle disposizioni collegate sono stati discussi animatamente. Così, per esempio, sulla valutazione ecologica dell'agricoltura, sulla trasformazione di uffici e abitazioni, sulla assunzione di personale docente e sulle disposizioni per i negozi di spegnere la luce di notte e chiudere le porte con il riscaldamento acceso.